Il tetto è molto compromesso, le impalcature impediscono che i calcinacci cadano sulle teste dei passanti. Le condizioni globali del conventino in via Matteotti, come mostrano le immagini realizzate anche con un drone, sono l'emblema di un degrado che peggiora da anni, da decenni. Il comune garantisce che almeno qui sarà rispettato il piano di rigenerazione urbana che aveva ottenuto finanziamenti lo scorso anno, 15 milioni di euro per 5 diversi edifici, compreso l'ex borri. Dunque dovranno nascere nella struttura che forma due diversi chiostri alloggi di housing sociale che possano accogliere famiglie e giovani coppie. Ma occorre fare in fretta perché gli edifici sono davvero in pessime condizioni. Se la vocazione è residenziale, l'assetto potrebbe risultare gradito al vicinato, però tutti chiedono di accelerare i tempi perché attorno all'area si moltiplicano di scariche abusive e di rifiuti e l'incuria abbonda.